Di nuovo qui, insieme a voi, proprio l'ora che non ci pensavo più, mi sento dire, puoi tornare in Rai TV, non so se sì, non so se no, sono sempre stato molto scomodo, di qua e di là, non mi ha mai fatto lavorare. Funari sì, Funari no, la mia pelle è tutto quel che ho, fiero però di essere coerente ancora. Funari qui, Funari là, vive sempre le sue libertà, solo per voi tutte le sue verità. Come on! Oh yeah! Funari sì, Funari no, la mia pelle è tutto quel che ho, fiero però di essere coerente ancora. Funari qui, Funari là, vive sempre le sue libertà, solo per voi tutte le sue verità. Solo per voi tutte le sue verità. Allora, come si chiama? Andrea Tofanelli. Andrea Tofanelli, alla tromba! Ma muovo dei visi! Allora, io anche l'altra settimana vi ho detto ai vostri figli, mandateli in palestra, io sono un amante dello sport, però, fatele pure imparare qualche strumento, incentilisce l'anima. Sulla tromba ho qualche dubbio, perché fanno una fatica a voi. Ma come gli è venuta in mente a uno di suonare la tromba? Capisco, hai di dare il piano, ma la tromba! Come ti è venuto in mente? È venuto in mente, non lo so, mi hanno raccontato i miei genitori, che da bambino, tipo 4-5 anni, quando avevo 4-5 anni c'era programmi tipo senza rete, c'era l'orchestra, e io mi avvicinavo alla televisione, indicavo la tromba e dicevo... E quella te l'hanno comprata? E me l'hanno comprata! Ci sono i mafiosi che entrano nel mitra e gli comprano quello! Questo è il guaio! Grazie!